L'immagine per AGSM si concretizza nella realtà quotidiana giornaliera, cioè ciò che i nostri dipendenti e i clienti possono incontrare ogni giorno nei nostri ambienti lavorativi. Per noi sostanza è praticità. Essere pratici significa raccogliere i dati, analizzarli, elaborarli, studiarli e poi da lì trarre le soluzioni che portiamo in azienda a servizio del nostro business. E per ultimo dinamismo. Per noi dinamismo significa velocità con precisione, per riuscire a focalizzare velocemente i problemi e poi reagire con tempestabilità per portare in produzione le nostre soluzioni.